Ciao ragazze, ciao ragazzi, ecco qui con un nuovo vlog, finalmente un nuovo vlog, anche se sto registrando che sono le due notte, ma va bene Fanny doveva fare questa clip, prima me la sono dimenticata proprio, la volevo fare, ma mi sono dimenticata, da fare altre cose, quindi ragazze, inizio questo vlog, perché tra 24 ore vado solo a crever il novice, quindi li porto con me, finalmente vado a fare il mio bagno, vado a fare un bellissimo bagno a casa, non vedo l'ora che siano mani, almeno, una faccio una bella giornata, passerò con la mia famiglia, e poi un grande bagno, e poi seguo con qualcuno, qualche amico, qualcuna, capi? E' bello, e quindi ragazzi, saluto, e ci vediamo nel resto del vlog di domani, di tra 24 ore, Ok? Ora vado a fare le mie ultime cose, mi riposo, mi riposo, dormo, ma mi riposo, tanto mi sveglierò presto, mi sveglierò, anche se mi devo svegliare presto, nonostante le due, ma tanto mi sveglio subito per andare a casa del novice, quindi non è un problemozio, e quindi ragazzi, mi vado un grande bacio, e ci vediamo. Oh, per il proseguo del vlog, poi il vlog me lo metto lunedì nel canale, tranquillamente, e quindi, un grande bacio, e ci vediamo domani per il proseguo del vlog. Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccomi qui. La meraviglia del mare, la meraviglia del mare, la meraviglia del mare più bella. Ragazzuole, ci vediamo dopo nel canale, poi vi metterò le foto. Bye. Un bacio. Allora, ciao ragazzi, ciao ragazzi, eccoci qui, all'ultima parte del vlog, il nostro bellissimo vlog, di questa giornata che vi ho portato a Satevelino con me, che poi vi vedete, con i miei video domani, ovvio. E quindi, vi posso dire, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me. E quindi, vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me. Appena mi ha portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me. E poi, dovevo iniziare a fare la clip, mi sono dimenticata, mi sono fatta un attimo dei TikTok. Mi sono asciugata i capelli a sare, prima cosa, ho fatto dei TikTok e ora, la mia energia è iniziale. Se vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me, che vi ho portato a Satevelino con me. Oltre a Satevelino con me, che ho portato a Satevelino con me. E quindi, ragazze, se vi è piaciuto tutto il vlog, mettete tantissimi like, commentate in tanti e iscrivetevi al canale Marillena. la super viva 09 va bene la super viva 09 che si aggiungo per i vlog e quindi vi mando farvi il bacio non vi dimenticate il primo canale per avere tutti i video speciali ovvio vi metterò pure il Facebook della giornata direttamente quello per se il vlog sia quello lunedì video meglio che one e quindi ragazzi ci vediamo al prossimo vlog finalmente vediamo al prossimo vlog vediamo dove andrò ok un bacio a tutti